Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un serial che molti di voi mi hanno chiesto a lungo in questi mesi. Cerco come al solito di accontentare le vostre richieste, ecco perché oggi parliamo di Jack, un Tarvega, detto anche lo strangolatore di Vienna. Ha colpito 11 vittime accertate, mentre due sono solo sospettate. Ma prima di addentrarci nei tremendi crimini compiuti da Jack, come al solito facciamo un passo indietro. Nasce il 16 agosto del 1950 a Judenburg, in Austria, a poche decine di chilometri da Gretz. È il figlio legittimo di un soldato americano e di una truffatrice e prostituta austriaca di nome Theresa. La sorella di sua madre, anch'essa prostituta, viene uccisa dal suo ultimo cliente. Questo evento turba Jack in modo molto profondo. Non conosce mai il padre e viene abbandonato da sua madre. Il ragazzo cresce in povertà, a contatto con suo nonno, Ferdinand Visa, un uomo molto violento e alcolizzato, in una baita formata da una sola stanza. Il nonno insegna Jack a rubare degli animali dalle fattorie della zona. Diciamo che non è proprio un modello da seguire. Jack aspetta il ritorno di sua madre per anni e la donna torna anche qualche volta. Per esattezza, Jack la vede solo quando ha 10 anni. Scopre che faccia abbia sua madre solo in quel momento. La donna dunque si recae in quella baita solo una volta, ma per prendere qualcosa e mai qualcuno. Non prende mai Jack con sé. Il nonno alla fine lo mette in un orfanatrofio dove Jack non si trova affatto bene. Non riesce a stringere amicizia con nessun bambino, si sente in prigione. Fortunatamente viene adottato, ma anche i suoi genitori adottivi non sono un granché. Non pensano molto a Jack, lo lasciano libero di fare quello che gli va fin da piccolo. Dunque, Jack cresce tra protettori e prostitute. All'età di soli 9 anni inizia a saltare la scuola e quindi impara a leggere e a scrivere solo in età adulta. Alle soglie dell'adolescenza è solito frequentare sempre di più gli ambienti delle prostitute e dei protettori, diventando prima un teppista e poi, verso i 20 anni, un pappone. Ma tratta sempre bene le ragazze che lavorano per lui. Memore di quella zia massacrata dal suo ultimo cliente. Nel 1966, Jack viene condannato a una pena detentiva correzionale di tre giorni per furto. Viene mandato per un anno all'Istituto Federale dei Bisognosi di Kaiser Ibertov. Dopo il rilascio, Jack lavora come cameriere e durante questo periodo commette parecchi furti con scasso e defrazioni. Inoltre viene notato per alcuni abusi intimi a prostitute locali e per sfruttamento alla prostituzione. E, magicamente, la zia di Jack, quella uccisa dal suo ultimo cliente, diventa un'incognita. La domanda che dovremmo porci è, questa zia è mai esistita? Tra il 1968 e il 1973 viene arrestato ben 16 volte. Nel maggio del 1974, Jack afferma di aver tentato il suicidio usando delle sostanze. Viene interrato in un reparto psichiatrico per nove giorni. Il 31 marzo del 1973, Marika Hovat, a San Lisburgo, esce di casa verso le 18 per recarsi in città. Il giorno dopo il suo corpo viene rinvenuto a pelo d'acqua nel lago Salzaha, vestita solo dalla cintola in su e completamente nuda per il resto del corpo. Ha i polsi legati dietro la schiena da una cravatta. Le gambe, invece, sono state annodate insieme alle caviglie, con i suoi stessi collant. La bocca è coperta da del nastro adesivo. Non ha alcun segno di violenza carnale. L'assassino l'ha presa a pugni sul viso e poi l'ha buttata nel lago. La ragazza, infatti, è morta annegata e i suoi vestiti vengono rinvenuti lungo la riva. Ad indagare sul caso rispettore August Schenner, che purtroppo non ha nulla in mano, nessuna pista, almeno per il momento. Il 12 dicembre del 1974, Jack è in visita da un amico in Assia, più precisamente in Germania, quando i due incontrano per caso Margaret Schäffa, che sta tornando a casa da una festa di Natale. L'accompagnano a casa, poi la manettono in camera, le rubano tutti i soldi e scappano, sia con i soldi che con lei. La portano fuori Eversbach, in una zona boscosa. Il suo amico resta in macchina, mentre Jack la trascina in mezzo agli alberi, impugnando un asta d'acciaio. Colpisce la ragazza più volte, al collo e alla testa. Poi la strangola con il suo reggiseno. Il primo giugno del 1976, Jack viene condannato al regastolo, presso il tribunale regionale di Sanisburgo, per aver ucciso Margaret Schäffa. Il tribunale di Sanisburgo incarica il dottor Klaus Jarosz di eseguire una perizia su Jack. Secondo il medico, l'imputato è emozionalmente impoverito, non ha sensibilità, soffre di improvvisi attacchi di collera, è estremamente aggressivo e ha forti perversioni intime di carattere sadico. L'uomo non nega l'omicidio, ma si giustifica dicendo «Ho immaginato di avere davanti mia madre e quindi l'ho uccisa, non sapevo cosa stavo facendo». C'è da sottolineare che in Austria, per ergastolo, si intende un periodo di 25 anni di detenzione, continui, con la possibilità di essere rilasciati sulla parola dopo 15 anni. Già nell'aprile del 1973, Jack è sospettato dell'omicidio di Marika Horvat, trovata a Sanisburgo. Nonostante ciò, questo crimine non viene mai dimostrato e l'indagine viene interrotta a seguito della condanna. Per anni, Jack esclama a chiunque gli ricordasse la sua prima vittima «Magari potesse tornare indietro per fermarmi in tempo e non fare ciò che ho fatto». Questo primo omicidio, che primo non è, per Jack rappresenta una catarsi, poiché capisce che proprio in quella rabbia c'è il desiderio e l'amore del bambino nascosto dentro di lui, che ancora cerca la propria madre, che di base non c'è mai stata. L'ispettore August Schenner nota uno schema comune, ma non riesce a dimostrare che Jack fosse a Sanisburgo la notte in cui Marika Horvat era stata uccisa. Nel 1973, otto anni dopo, un ubriacone arrestato dalla polizia dichiara di sapere molte cose sull'omicidio di Marika Horvat, perché ad ucciderla è stato l'allora fidanzato di sua figlia, ovvero un certo Jack, un Tarvega. L'uomo muore di infarto prima che l'ispettore possa interrogarlo, tuttavia l'investigatore riesce a rintracciare la figlia, e proprio grazie a lei può dimostrare che Jack era proprio a Sanisburgo la sera in cui Marika Horvat viene uccisa. Per la precisione, Jack alloggia in un albergo a tre chilometri da dove viene ritrovato il corpo. Jack, già in prigione, ammette che è vero. Lui in quel periodo si trovava a Sanisburgo in effetti, ma nega decisamente che fosse lui il responsabile dell'omicidio. Una volta in prigione, Jack diventa un detenuto modello per passare il tempo, legge tantissimo, dai romanzi alle opere teatrali. Si rende conto ad un certo punto che anche lui ha delle storie da raccontare, quindi inizia a scrivere. In carcere tutti si rendono conto che Jack si sta trasformando in un'altra persona. E, da questo esatto momento, Jack inizia a scrivere delle raccolte di poesie, delle raccolte di racconti, oltre a numerose favole della buonanotte. Inoltre Jack tiene un diario in cui scrive tutto quello che gli è accaduto prima dell'omicidio. Scrive della sua adolescenza, della sua famiglia, delle donne che aveva avuto, e dei propri sentimenti. Questo diario, in seguito, diventa un libro che guadagna in pochissimo tempo un enorme successo intitolato Il Purgatorio o Il Viaggio in Prigione. Intanto Jack inizia a vivere un periodo buio, scrive basta, non da retta a nessuno, fino a tentare il suicidio in carcere. Nel 1987, il regista Willie Hangelster trae da questa biografia il film Il Purgatorio e, alla lavorazione del film, partecipa anche Jack direttamente dalla prigione. Tale successo gli fa conquistare il rispetto e la stima della comunità letteraria austriaca. I più grandi scrittori firmano una petizione chiedendo il rilascio sulla parola per l'uomo. Le firme a quella petizione sono tantissime, quindi, nel maggio del 1990, il giudice accetta di rilasciare Jack, con un'unica condizione, non dovrà più commettere reati di nessun tipo. Appena fuori dal carcere, Jack riceve dallo Stato un ricco sussidio al fine di poter proseguire la sua carriera. Viene invitato a vari talk show televisivi. In quelle trasmissioni, Jack risulta carismatico, affascinante ed esuberante. Parla del suo libro e si presenta come un modello di riabilitazione carceraria. Così Jack diventa una star, ammirata dei letterati e amatissima dalle donne. A questo punto, l'uomo diventa un giornalista. Inizia a scrivere articoli di cronaca. D'altronde, chi meglio può carpire il sottofondo scuro di Vienna? Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre del 1990, una donna di nome Blanca Bokova, una donna impiegata presso una macelleria di Praga, esce da un pub in cui ha passato la serata con un amico, con cui, però, ha letigato. Decide quindi di tornare a casa a piedi, da sola. In piazza Vanceslao incontra un elegante signore con il quale parla. È un uomo molto gentile e affascinante. Guida una gran bella macchina. Così, quando quell'uomo invita la ragazza a salire a bordo, Blanca non se lo fa ripetere due volte. Non ha affatto voglia di tornare a casa a piedi da sola, al freddo. Jack guida la macchina fino ad arrivare in un posto appartato. Una volta fermi, l'uomo estrae un coltello e inizia a minacciarla. La fa spogliare completamente, ordinandole di tenere i gioielli addosso e i gambaletti. Poi, la manetta, la picchia e la strangola con i suoi collant grigi. Il corpo di Blanca viene ritrovato perché è notato da alcuni passanti. È sulla sponda del fiume Vitava, nei pressi di Praga. La donna viene riconosciuta perché lungo il fiume riescono a trovare dei vestiti in mezzo ai quali c'è il suo portafoglio con i suoi documenti. Il 25 ottobre del 1990, Brunil de Massach scompare a Graz, in Austria. Viene vista dall'ultima volta da un taxista verso la mezzanotte e il suo corpo viene ritrovato nei boschi, in posizione prona, presso un ruscello. È in avanzato stato di decomposizione, quindi capire quale sia la causa precisa della morte è impossibile, ma probabilmente è stata strangolata con un pezzo di stoffa. Jack non riesce a dare un alibi per quella sera, infatti al momento dell'omicidio si trova sull'autostrada che da Vienna porta a St. Vitt, che guarda caso passa proprio da Graz, posto in cui è stata ritrovata senza vita Brunil de. Il 5 dicembre del 1990, alle 23 circa, presso la stazione di Huygens, in Austria, viene vista per l'ultima volta la prostituta Heidi Marie Hammara. Il suo cadavere viene ritrovato nei boschi di Luznau, il 31 dicembre, in posizione supina. L'addome è ricoperto in parte di foglie, sembra che l'assassino l'abbia rivestita per trascinarla in mezzo al bosco. Le gambe sono nude, una parte della sottoveste è stata tagliata con un coltello e inserita con forza nella bocca della donna, a mo' di bavaglio. Heidi Marie ha i polsi legati, è stata malmenata e strangolata con i suoi collan. Sui vestiti vengono rinvenute delle fibre rosse. Il 7 marzo del 1991, verso le 22, e l'offrier del Schremp compare. Il 5 ottobre il suo cadavere viene ritrovato a circa 20 chilometri di distanza, in un bosco. Appare nuda a parte i gioielli e le calzette Bordeaux. Anche in questo caso non è stato possibile stabilire la causa della morte. Per esclusione, visto che le ossa non presentano segni di arma da taglio o da fuoco, si suppone che sia stata strangolata. Fino a questo momento Jack è stato abbastanza furbo. Le vittime sono delle prostitute, per cui c'è stato poco clamore, come avviene sempre in questi casi. Non solo. Jack è furbo. Non ha agito nella sua città, in cui risiede, ossia Vienna. Colpire due volte a Gretz, però, si rivela un errore, poiché i polizzotti della città pensano immediatamente che due prostitute uccise, nel giro di 5 mesi, con un analogo modo superandoli, devono per forza essere state uccise dalla stessa persona. Se Jack avesse ucciso ai quattro angoli dell'Austria, sarebbe stato molto più difficile collegarlo a tutti i delitti. Ma, più uccide, più si sente al sicuro e abbassa la guardia. Abbassa la guardia perché, ora, Jack è uno stimato scrittore. Quindi è insospettabile agli occhi della legge. Almeno, questa è la sua convinzione. A questo punto, Jack inizia a colpire a Vienna. L'8 aprile del 1991, a Vienna scompare dal quartiere Pensing, la prostituta Sylvia Zaglar viene ritrovata senza vita il 4 agosto nel Wienerwald, ossia la selva viennese, che è un gruppo montuoso ed una regione geografica delle Alpi nordorientali. Si trova in bassa Austria, ad occidente della città di Vienna. Il 16 aprile del 1991, Sabine Moizzi, alle 23, scompare. Sale sulla macchina di Jack per concordare il prezzo delle sue prestazioni. Viene ritrovata senza vita il 20 maggio. Appare completamente nuda, tranne per il body sollevato sulle spalle. L'assassino l'ha messa in una posizione umiliante, con il viso affondato nel fango, le gambe divaricate e i glutei sollevati. Le zone intime sono esposte. È stata strangolata con i suoi collant, indossa ancora dei gioielli, ma sia i vestiti che il contenuto della sua borsetta sono sparpagliate attorno al suo corpo. Il 28 aprile del 1991 scompare la prostituta Regina Prem. Nessuno sa più nulla di lei fino al 19 aprile del 1992, quando le sue ossa vengono ritrovate sparse nel bosco. L'unico indumento ritrovato è una calza, ancora attaccata al femore. Il suo cadavere viene ritrovato nel Vignavald, nel comune austriaco del distratto di Maudling, il 23 maggio, in posizione prona. È stata violentamente percossa sul viso e poi strangolata con il suo body. Viene ritrovata nuda, ma con addosso i suoi gioielli. Nonostante tutti gli omicidi portassero realmente la stessa identica firma, ossia vittima strangolata con i propri indumenti, intimi, denudata e con i gioielli lasciati addosso, la polizia incredibilmente non collega i delitti. Ai tempi, in Austria, le modalità di indagini della polizia non sono ancora aggiornate, non sono pronti per avere a che fare con un serial. L'escalation indica che Jack, a Vienna, si sente più al sicuro. Però, quattro omicidi in un mese richiamano subito l'attenzione della polizia, ma soprattutto dei media. Lo stesso Jack si occupa degli omicidi. Il 22 maggio del 1991 esce il suo primo articolo sulla scomparsa delle prostitute. Fino a quel momento, l'unico corpo rinvenuto è quello di Sabine Moizzi. Il giorno dopo, però, viene scoperto anche il corpo di Silda Zanglar. L'eco di queste notizie arriva fino a Sanisburgo, dove abita l'ispettore August Schenner. Ormai è in pensione, però è lui a segnalare Jack, un Tarvega, come probabile assassino alla centrale di Vienna, il 31 maggio. Schenner non ha dubbi che l'autore di questi omicidi sia proprio Jack. Il corpo di Sabine Moizzi ricorda gli omicidi commessi negli anni 70 proprio da Jack, visto che secondo l'ispettore Jack è colpevole di due omicidi e non di uno solo. Intanto Jack continua il suo lavoro e va anche ad intervistare il capo della polizia che sta indagando sugli omicidi. Questo dimostra la sua sfrontatezza. Ma perché arriva tanto? Un famoso profiler dell'FBI di nome Headswood spiega che i criminali intimi prima o poi si tradiscono. Perché cadono nel narcisismo, credono di essere i più intelligenti, i più scaltri e capaci di chiunque altro al mondo. Più la fanno franca, più il loro ego diventa smisurato, perdono completamente la percezione del pericolo, diventando imprudenti e commettendo errori grossolani. Anche se durante gli omicidi non perdono il controllo, rimangono quindi organizzati e disciplinati, nella vita di tutti i giorni tendono in un certo qual modo ad estragnarsi dalla realtà. Per cui perdono il senso della prospettiva delle loro azioni. Presentarsi come giornalista e il capo della polizia è una sfida beffarda. Non avendo esperienza con i serial, il poliziotto non può certo immaginare che i costoro interagiscono con le forze dell'ordine per carpire le informazioni, perché ne sono in qualche modo attratti e anche per senso di sfida. Jack in effetti non ha considerato che tutto sommato l'Austria è piccola, ha solo 7 milioni di abitanti. La prostituzione peraltro è legalizzata, per cui sono pochi gli omicidi commessi ai danni di prostitute. Si pensa che una persona più intelligente sia quella che farà più carriera, giusto? L'intelligenza è tutto nella vita. Non è sempre così, perché c'è anche il quoziente emozionale da considerare, ovvero la capacità di comprendere gli altri. I serial organizzati hanno un grande quoziente intellettivo, ma uno scarso, quasi nullo, quoziente emozionale. Ecco perché hanno una grande stima di sé e una scarsa considerazione degli altri. Ecco perché commettono errori, sottovalutano e sottostimano l'avversario. In questo caso Jack si sente ormai al di sopra di ogni sospetto. Però di precedenti penali ne è come, sia per omicidio che per aggressioni multiple. August Schenner a parte, per i suoi precedenti, Jack avrebbe dovuto comunque rientrare nella lista dei sospettati. Tuttavia gli appoggi politici di cui gode e la fama di letterato lo rendono intoccabile. Inoltre è il simbolo del detenuto redento. In ogni caso il suo atteggiamento convince una testata giornalistica ad assumerlo con il compito di far luce su uno degli omicidi che lui stesso aveva commesso e di scrivere un articolo ben particolareggiato sulla vicenda. Così Jack comincia ad intervistare, come già vi ha accennato, anche i poliziotti, tra i quali Max Adelbaha, direttore dell'ufficio sicurezza del dipartimento di polizia di Vienna, incaricato a catturare il misterioso strangolatore, ottenendo tutte le informazioni di cui i tutori della legge sono in possesso. Impressionato dall'ottimo lavoro che sta facendo, il direttore di un altro giornale decide di affidargli un reportaggio sulla prostituzione negli Stati Uniti. Jack accetta molto volentieri la proposta e parte per Los Angeles. A Los Angeles l'uomo inizia a lavorare a stretto contatto con la polizia americana, con la quale esce in pattuglia in alcuni quartieri a luci rosse della città, con l'obiettivo di indagare il più possibile sul mondo della prostituzione. Di giorno Jack va in giro con la polizia, ma di notte la sua vera essenza rispunta fuori. Il 19 giugno del 1991 scompare la prostituta Shannon Exley. Il 20 giugno viene ritrovata senza vita in un parcheggio ai piedi di un eucalipto. È in posizione prona, indossa solo la maglietta che risulta sollevata sopra il seno e delle calzette. Il 28 giugno scompare la prostituta Irene Rodriguez. Il giorno successivo viene ritrovata sotto un camion, in un parcheggio, in posizione supina, completamente nuda. Prima è stata percossa con una violenza tale da provocarle un'emorragia interna, poi strangolata con il suo stesso reggiseno. Il 3 luglio scompare la prostituta Sherry Lond. Viene ritrovata l'11 luglio sulle colline di Malibu, con la maglietta sollevata oltre il seno, completamente svestita. È stata percossa con violenza e poi strangolata col suo stesso reggiseno. Durante tutto questo periodo Jack soggiorna in un hotel particolare, famoso per essere stato teatro di numerosi crimini, suicidi e domicidi, ossia il sessi l'hotel. Nel frattempo Jack riesce anche ad essere un rubacuori, in quanto conosce in una discoteca Bianca Mark. Ha 18 anni da pochi giorni ed è seduta al bancone a bere del gin tonic, quando improvvisamente nota un uomo che le sorride e porge il bicchiero a mo' di brindisi, dall'altra parte del bancone. Jack brinda ogni volta che Bianca si gira verso di lui guardandola negli occhi. La cosa la ragazza ha un po' da sui nervi, ma d'altra parte si sente un po' lusingata. Jack a questo punto fa il primo passo e invita Bianca a sedersi vicino a lui. La ragazza rifiuta per un paio di volte e poi però alla fine cede. Bianca è una semplice studentessa che si innamora follemente di lui e ben presto inizia una nuova vita in cui solo Jack è importante. Infatti Bianca per amor suo rompe tutti i rapporti con i suoi amici e con la sua famiglia, abbandona la scuola e inizia a lavorare in un nightclub per riuscire a raccimolare soldi. Sin dal terzo omicidio gli investigatori americani si rendono conto di avere a che fare con un serial. A notarlo per primo è Jim Harper, il detective della polizia statunitense che si occupa degli omicidi commessi in California. Jim inizia a notare delle strane analogie, tra queste c'è il nodo fatto per strangolare le vittime. Chiede aiuto a Lynn Harold che lavora al laboratorio criminale di Los Angeles. L'uomo analizza i nodi e scopre che sono tutti eseguiti dalla stessa persona. Sicuramente hanno a che fare con una mano esperta. A questo punto come già vi ho detto diviene chiaro che hanno a che fare con un serial. Tracciano così il profilo dell'assassino. È uno psicopatico organizzato che sceglie le sue vittime con molta cura. Prende di mira dei soggetti ad alto rischio come le prostitute. Scelta che gli dà meno possibilità di essere scoperto. A questo punto come già vi ho detto diviene chiaro che hanno a che fare con un serial. Tracciano così il profilo dell'assassino. È uno psicopatico organizzato che sceglie le sue vittime con molta cura. Prende di mira dei soggetti ad alto rischio come le prostitute. Scelta che gli dà meno possibilità di essere scoperto. Mentre la polizia di Los Angeles si mette alla ricerca dell'omicida quella cecoslovacca e quella austriaca già hanno dato un nome e un volto al colpevole Jack Unterweger. Infatti a Praga qualcuno aveva visto Blanka Bokova salire nell'auto di Jack. Inoltre quest'ultimo è stato visto più volte con delle ragazze che poi sono state ritrovate senza vita. I poliziotti cecoslovacchi chiedono a quegli austriaci di perquisire la macchina che solitamente guidava Jack. Una Mercedes. E proprio in quella macchina trovano un cappello che apparteneva a Blanka. Le scoperte però non finiscono qui. Infatti sul corpo di Heidi Marie Hammara vengono trovati dei fili di lana rossa. Analizzandoli si scopre che appartengono ad una sciarpa di Jack. Degli esperti del dipartimento di scienze comportamentali dell'FBI di Quantico in Virginia redigono un documento in cui viene tracciato un profilo psicologico dell'assassino delle prostitute. Corrisponde perfettamente al profilo di Jack. Appena Jack scopre che la polizia lo cerca fugge con una ragazzina di 18 anni follemente innamorata di lui ossia Bianca la ragazza che aveva conosciuto e conquistato in discoteca. Lei gli chiede di andare a Miami. Prima però i due fugono in Svizzera. Poi si spostano a Parigi. Infine prendono un aereo diretto per gli Stati Uniti. Appena giunti in America Jack chiama le televisioni e i giornali in Austria per proclamare la sua innocenza. Le cose iniziano però a mettersi male per lui visto che in pochi ormai gli credono. Anche il mondo intellettuale austriaco che da sempre si batte per difenderlo è sotto shock. Incredulo. L'Interpol inizia a seguire i movimenti della sua carta di credito e scopre che si nasconde in Florida. Subito dopo averlo trovato gli agenti lo estradano in Austria mentre in prigione Jack si sente con Bianca ma nello stesso periodo riceve anche una lettera da Astrid Wagner una stagista legale nel tribunale di Graetz. Riceve la lettera di Astrid perché il giudice probabilmente sbagliando ha mandato la lettera di Jack per Bianca ad Astrid. Così due hanno iniziato a sentirsi. Poi si sono anche visti e la donna dice che possono toccarsi solo attraverso il vetro dell'ala visitatori. Quello è l'unico contatto possibile. Spesso ha indossato un bel vestito e Jack gli ha fatto i complimenti. Lo definisce un amore platonico. È solo nella sua testa. Insomma quando è a letto in quel periodo pensa a Jack. Per lei la situazione è romantica. Infatti con Jack non ha mai parlato di cose intime. Lo definisce come uno spirito raffinato. Astrid non si vergogna a dire che Geralt è stata un'illusa. Si è innamorata di un assassino che ha ucciso brutalmente 11 donne. Però è anche affascinata da Jack. Ha un carisma particolare. Infatti in quel periodo Astrid ha addirittura chiuso una storia che andava avanti da ben 10 anni per Jack. Ha anche pensato di sposarlo. Un amico in comune ha consigliato di farlo in modo che la giuria potesse dargli una pena meno severa. La madre di Astrid è andata addirittura a trovarlo in carcere per conoscerlo. Poi però arriva il processo contro Jack che si svolge nel tribunale di Graetz dove tre consulenti del centro nazionale dell'analisi del crimine violento lo definiscono uno psicopatico organizzato. L'uomo sceglieva le vittime con cura premeditando gli omicidi. Non le mutilava e non portava via con sé nessun souvenir. Cosa che molti serial fanno. Jack le sue vittime le conduceva sul luogo del delitto con la propria macchina. Le uccideva tutte nello stesso modo. Cercando poi di nascondere il corpo non solo a chi l'avrebbe dovuto trovare ma forse anche a se stesso. L'arma usata era la loro biancheria intima e il nodo che faceva era sempre uguale in tutti i casi. Tanto da poter essere considerato la sua firma. Lo definiscono come un assassino che uccide per libidine. Emozione che può essere trasmessa non solo da un atto intimo ma anche dal semplice atto di uccidere o dal fatto di avere il controllo totale sulla vittima. Messo davanti a queste accuse Jack nega di essere la persona che descrivono e cercano. Il tribunale dice Era un individuo avido, vorace, affamato di vita e deciso di salire dal fondo. Ma non ero così come mi descrivete voi. Il 29 giugno del 1994 la giuria lo ritiene responsabile di sette omicidi e sospettato di altri due. Lo condannano così all'ergastolo per la seconda volta. Poche ore dopo quella sentenza un secondino che gli porta da mangiare in cella lo trova impiccato alle sbarre della finestra. Si è ucciso utilizzando le stringhe della sua uniforme da carcerato. E ovviamente il nodo che ha fatto per uccidersi è uguale a quello usato in passato per strangolare le sue vittime. Jack è anche un bugiardo patologico, ovvero mente anche quando non ce n'è bisogno, anche quando la bugia supera ogni senso logico. All'esempio dice a Schenner che sono stati i propri genitori di Margaret a pagare i suoi studi. Cosa non vera. Jack descrive Margaret come una sua conoscenza, altra sputerata menzogna. Margaret non conosce quell'uomo. Altra enorme menzogna, la zia prostituta uccisa dal suo cliente non è mai esistita. Anna non era una prostituta e soprattutto non era sorella di sua madre. Non era proprio una sua parente, ma una perfetta sconosciuta. Jack ha letto il suo delitto sul giornale e ci ha fantasticato sopra. Altra menzogna bella e buona, Jack dice che sua madre era una prostituta. Non lo era affatto. Sarebbe bastato fare una verifica su questi elementi che chiunque avrebbe potuto eseguire per rendersi conto che quell'uomo era un mentitore nato e non meritava nessuna libertà anticipata. La storia di Jack quindi ci porta ad una conclusione. Non è compito dei politici, ma soprattutto non è compito degli scrittori decidere se un detenuto si è redento in qualche modo. Ci sono degli specialisti appositi e degli psichiatri con specializzazione nel campo criminologico che devono periziare il detenuto. Nessun altro. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere se conoscevate la storia di questo serial, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo serial. Detto questo ragazzi, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che fanno bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.